Noi della Fondazione di Vignola siamo molto fieri di dare un supporto, di finanziare un'attività, iniziative di questo genere perché sono molto importanti. La settimana della biarchitettura e della domotica per noi è un progetto che lancia su tutta la nazione e su tutta l'Italia elementi di innovazione che a noi sono particolarmente cari. In particolare la Fondazione di Vignola investe ed eroga risorse finanziarie in un settore che è quello dello sviluppo del territorio e le tematiche che svolge questa società sono per noi fondamentali. Ne dico una per tutte, io sono particolarmente affezionato al tema dell'economia circolare, quindi del riuso e del riciclo dei materiali e dove se non nel settore dell'edilizia questo argomento è molto forte e molto sentito. Quindi noi sosteniamo questa iniziativa, lo facciamo con orgoglio e con piacere e vediamo che c'è anche molta adesione e questo ci fa ancora più piacere.